Si fa carico un po' di accogliere, accompagnare e difendere e tutelare i diritti dei rifugiati e ora si è aperto anche ai profughi. In città noi siamo da parecchi anni presenti come associazione e ci occupiamo di un'accoglienza, c'è un appartamento che appoglie 6 rifugiati e poi dopo ci attiviamo per sensibilizzare i studenti al tema del diritto d'asilo. Quindi ci sono tre progetti che la Fondazione Astalli ha predisposto e vengono proposti alle scuole superiori. La missione del centro Astalli è proprio questa, di accogliere, di accompagnare, quindi seguire un po' come forse una figura parente, molto da vicino alle persone e prepararli un po' a inserirsi nel territorio curando molto l'aspetto dei loro diritti. Il desiderio è di aiutare le persone ad aprirsi al problema degli immigrati, ma in particolare dei rifugiati, che sono persone che lasciano tutti gli affetti, il lavoro, la scuola, tutti i loro progetti per difendere dalla loro vita.